Cari Grant e cari Cooper, di cosa parliamo oggi dall'editoriale delle 17? Che tanto siamo qui nello studio di Portogruaro, seconda cosa stiamo lavorando, il sole è sbucato e qualche cosa di nuovo sta arrivando. Sta arrivando cosa? Un nuovo fortunale che darà una scossa generale sia al Friuli Venezia Giulia che al Veneto. Ma per maggiori novità vi diamo appuntamento sempre domani, solita ora, solito canale, il temporale delle 17. Ciao!